Stimolare la ripresa dell'edilizia e del mondo delle costruzioni anche utilizzando le nuove tecnologie ma mirate alla sicurezza e alla legalità. E' questo l'obiettivo di un accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dall'INAIL, direzione INAIL dell'Emilia-Romagna, il primo del genere in Italia, che offre concreti vantaggi anche economici alle imprese che introdurranno nei cantieri il sistema elettronico di controllo degli accessi, Repac, il registratore delle presenze autorizzate. Sicurezza e legalità, camminare insieme e soprattutto tutte le istituzioni ai vari livelli, nazionali, regionali e locali, insieme collaborano per cercare di trovare le condizioni di fare un passo in avanti. Il controllo nei cantieri è un punto ma occorre innanzitutto partire dalla responsabilità della Regione che in questi anni ha sviluppato azioni che partono da una cultura della legalità. Qual è la novità? La nostra normativa prevede per le aziende la possibilità di ottenere uno sconto sul premio assicurativo qualora dimostrino di aver attuato interventi migliorativi della sicurezza, quindi ulteriori rispetto a quelli che la legge prevede. Noi abbiamo già investito oltre un milione di euro insieme alle imprese perché dobbiamo allargare la dimensione della responsabilità e dei controlli nei cantieri. Dobbiamo anche fare ancora di più. Noi siamo impegnati insieme alle prefetture per cercare di fare un passo avanti in questa rete della responsabilità. I numeri quando si parla di infortuni nei cantieri edili sono sempre troppo alti. La crisi del settore delle costruzioni in qualche modo è una complicazione in più, anche se la statistica dal 2006 ad oggi dice che in Regione Emilia-Romagna il numero di infortuni è in calo, mediamente del 10% annuo. Un calo che non può comunque essere giudicato un risultato, visto che gli infortuni sono circa 9.000 e in 18 casi hanno avuto un esito mortale. Oltre al 30% degli infortuni sono perdite di controllo di una macchina o cadute dall'alto. Si può insomma fare di più anche con i controlli delle persone realmente presenti in cantiere? I presupposti applicativi e quindi quali sono le condizioni? Qual è il cantiere che può dichiarare di aver utilizzato il Repa che quindi fruire dello sconto? Un cantiere che abbia almeno 50 uomini giorno, compresi subappaltatori, e che abbia un cantiere aperto per almeno 6 mesi. Il sistema Repa che è un sistema tecnologico composto da tre elementi sostanziali, che sono il badge, il dispositivo di accesso, e il server centrale, che è quello realmente gestito dalla Regione, sul quale arrivano i dati dell'accesso ai cantieri con fotografia e ora. Chiaramente, come dicevo, il sistema centrale è quello gestito dalla Regione, mentre i dispositivi di accesso, i badge, possono essere reperiti sul mercato adottando delle compatibilità che abbiamo pubblicato sui nostri siti. Il convegno controllo accessi nei cantieri, investire in sicurezza conviene, che si è svolto a Bologna, è una delle tante iniziative di sensibilizzazione inserite nel progetto Repac, il registratore delle presenze autorizzate nei cantieri. Siamo arrivati da un percorso da lontano, credendo in maniera forte al fatto di riuscire a introdurre dei livelli ulteriori di sicurezza nei cantieri edili, e questi livelli ulteriori di sicurezza vanno anche premiati. Noi stiamo cercando, nell'edilizia e costruzione, anche di dare un segnale per dare ossigeno. Noi abbiamo appena stanziato 60 milioni di euro, proprio perché riteniamo estremamente importante rafforzare l'edilizia regenziale sociale. La regione Emilia-Romagna non si ferma all'accordo sottoscritto con il direttore regionale dell'Inel dell'Emilia-Romagna, Alessandro Crisci, e vuole estendere anche all'edilizia privata norme vincolanti, ad esempio in antimafia, previste per i cantieri pubblici. Anche in questo caso è il primo intervento del genere in Italia ed è realizzato in collaborazione con i prefetti. Per noi l'obiettivo fondamentale è la lotta e il contrasto alla criminalità organizzata, problema che, come hanno dimostrato diverse indagini meritevolissime della magistratura, esiste in questa regione. Noi non vogliamo chiudere gli occhi, anzi abbiamo costruito una legislazione regionale di contrasto. Questo protocollo, attraverso una grande collaborazione con le prefetture, il ministero, i comuni e le province ci consente di elevare la soglia di attenzione per fare questo contrasto, su cui insieme a tutte le forze dell'ordine e agli enti locali saremo coerentemente impegnati. Ci sarà l'istituzione della DIA regionale, per noi era una richiesta fatta dall'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna già diversi mesi fa, per noi è un'ottima notizia. Anche questo si inserisce in quella serie di iniziative diffuse nel territorio per elevare la cultura della legalità. Questo protocollo che abbiamo firmato oggi è veramente molto particolare e innovativo perché chiede un falo, un'attenzione anche sui contratti fatti dai privati, quindi è un salto di qualità, sicuramente è un grosso salto di qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.